Buonasera e benvenuti all'edizione serale del Tg di Irpignanews. Apriamo il nostro notiziario partendo dalla pagina politica. Continua il braccio di ferro tra i sindaci del piano di zona A4. Questa mattina infatti si sono riuniti i sindaci appartenenti all'ambito a Palazzo di Città per trovare una soluzione e scongiurare il commissariamento. A causa di opinioni divergenti sulla gestione tattica dell'ente l'Assemblea si è tradotta in un nulla di fatto. Gli amministratori hanno perciò deciso di istituire una commissione di lavoro composta dai sindaci Foti, Tropeano, Fiero, Grassi, Tangredi, Donnarumma e Tenneriello per deliberare una soluzione che deve poi essere proposta e approvata dall'Assemblea entro una settimana. Passiamo adesso alle notizie da Montecitorio. Il ministro Lupi è intervenuto sulla questione alta capacità. Il collogamento Napoli-Bari è una priorità, ha detto il ministro dei Trasporti, ma vediamo i dettagli nel servizio. Alta capacità Avellino, decideremo. Ma prima si ascoltano comuni e cittadini. Attesi, non si decide senza sentirli. Il governatore Campano Caldoro affida a Twitter il suo commento sulla questione dell'alta capacità. Le parole di Caldoro arrivano all'indomani della risposta del ministro Lupi ad una interrogazione parlamentare presentata dal deputato Attaguile. Lupi ha sostenuto che la giunta regionale ha deliberato di dare atto che in relazione al quarto lotto, quello che interessa l'Irpinia, non ha espresso volontà di modificare il tracciato nel termine del 15 marzo 2012 e che pertanto il tracciato resta invariato. Dunque, continua Lupi, superata da parte della regione Campania l'esigenza di rivedere il tracciato, è in corso l'iter approvativo sulla base del predetto progetto preliminare pervenuto ai competenti uffici del MIT nel 2010. Devo tuttavia segnalare che ad oggi, conclude Lupi, la giunta regionale della Campania non sia ancora espressa sul progetto preliminare e fini dell'intesa sulla localizzazione urbanistica delle opere previste dal progetto. Intanto la CGL ha commentato così gli ultimi eventi. Lupi ha dato ragione a quanto sosteniamo da tempo, senza remore e strumentalizzazioni. Ritorniamo in studio con la cronaca. L'ufficio annona del comando di polizia locale di Avellino ha fatto emergere la condotta di tre persone dedite ad organizzare abusivamente l'attività di agenzia di viaggio. L'attività ha riguardato il controllo di privati che si sostituiscono alle agenzie offrendo pacchetti viaggi senza copertura assicurativa e pubblicizzando gite ed escursioni fuori porta attraverso i canali di informazione del volantinaggio fai da te e dei manifesti abusivi. In particolare, a seguito della ricezione di una denuncia esposta a firma del titolare di un'agenzia di viaggi avellinese, è stata riscontrata la presenza sul territorio comunale di persone che senza alcun titolo abilitativo reclamizzava attraverso l'affissione su muri delle principali arterie della città, l'organizzazione di gite verso vari luoghi con la proposizione di pacchetti completi di trasporto persone a bordo di autobus, sistemazione in albergo con relativo pernottamento, tutto rientrante nelle competenze di agenzia di viaggio. Passiamo adesso a Montella. In un casolare abbandonato, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato un chilo di canapa indiana. Vediamo il servizio. I carabinieri della compagnia di Montella hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare e sequestrato oltre un chilo di canapa indiana in due distinte operazioni. La prima indagine è stata eseguita dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Montella e da quelli della stazione di Nusco. I militari hanno arrestato ai domiciliari un 19enne che spacciava per conto proprio, rifornendo di erbe ascici i giovani di Nusco e dei comuni limitrofi. La misura dei domiciliari ha di fatto interrotto l'attività di spaccio del giovane. Nell'ambito dei servizi tesi ad arginare l'uso e lo spaccio di stupefacenti, i carabinieri di Montella hanno poi scoperto in un casolare abbandonato a ridosso di un corso d'acqua alcune piante e foglie di canapa indiana per un complessivo peso di un chilogrammo. Chiudiamo adesso il nostro telegiornale con la pagina di sport e chiudiamo con il volley. La società Sidi Gaspa replica alle accuse lanciate dal tecnico della pallavolo Avellino Totire. Impegni mantenuti, dichiara la società da Totire, solo una mistificazione della storia. Dalla redazione di Irpinia News è tutto, un augurio di una buona serata. Grazie. 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 Grazie a tutti.